C'erano alcune risposte che Juan Manuel Cichello attendeva dall'ex Privia Molfetta dopo le sconfitte a Piacenza e contro Ravenna. La prima è arrivata con il successo anche se solo al tie-break su Modena, la seconda riguardava il valore di un gruppo che non poteva essere quello visto all'opera nelle ultime settimane, la terza è che l'eventuale qualificazione alle finali a 8 di Coppa Italia passerà dalla gara di Vivo-Valenzia il 9 gennaio prossimo. A conti fatti, le preoccupazioni per una crisi tecnica che sembrava essersi insinuata nell'ambiente bianco-rosso sono state allontanate ma non del tutto spazzate via. Serviranno ulteriori risposte dopo la sosta natalizia che Cichello utilizzerà per rimare ancora i fondamentali come la ricezione e il muro, ma la sosta diventa propizia anche per far ricaricare le energie ad elementi come Giulio Sabbi. I suoi 36 punti sono di fatto un record nella sfida di sabato contro Modena, tutto merito di una ricezione che ha funzionato a tal punto da permettere di giocare palloni semplici. Modena dal suo canto ha confermato di essere squadra che in trasferta fa sempre punti, né il valore degli emiliani è stato sminuito dalle assenze di tre elementi come De Roo e Kampa impegnati con le nazionali belga e tedesca e il forfè all'inizio di Kovacevic. Non si sono risparmiate Molfette e Modena con i padroni di casa che si issano sul 2-0, ma rifiatano troppo così da consentire agli emiliani di rientrare in partita. Decisa dal tie-break che regala all'Exprivia una vittoria importante per il morale e utile per mantenere aperta la strada alla qualificazione alla Coppa Italia. Al momento i Molfettesi sono i primi degli esclusi e quella contro Vibo Valencia diventa la gara decisiva per rientrare nel gruppo. Anzi, una vittoria in terra calabrese permetterebbe un piazzamento migliore dell'ottavo posto, ma sono ragionamenti che si potranno affrontare con un pizzico di serenità in più dopo Natale.